Tempo fa un amico regista mi ha chiesto un preventivo per un videoclip musicale. L'idea alla base del video era della band stessa e si trattava di una cosa non semplice da realizzare. Sarebbero occorsi più giorni, un gruppo elettrogeno, diverse persone, quindi sapendo che tutta l'operazione era finanziata da un gruppo metal indipendente, quando mi sono reso conto che il preventivo sarebbe stata una cosa sui 5-6 mila euro, l'ho presentato senza tanta convinzione e ho suggerito al regista di proporre un'alternativa più economica. Questa mattina il regista mi ha mandato un link dal quale scaricare il video che la band ha affidato a un videomaker. Il videoclip è stato girato in due giorni da due persone che tra l'altro sono venute da un'altra città ed è stato consegnato color inclusa per 500 euro. Il risultato è carino, il video fa quello che deve fare per una piccola band indipendente genere death metal che vuole iniziare a pubblicare qualcosa su YouTube. Nell'email con il link il regista, che decisamente non la veda come me, si è lasciato andare a tutta una filippica con inventive a vario titolo in cui il nocciolo della questione era che questi nuovi videomaker stanno rovinando il mercato. A me sembra un modo profondamente sbagliato di vedere la cosa. Se oggi giorno è semplicissimo trovare qualcuno che realizzi un video di quel livello per 500 euro, evidentemente quel tipo di video non può più essere considerato un prodotto professionale. E forse non lo è mai stato, perché un tempo una piccola band indipendente, tra l'altro di un genere di nicchia, non avrebbe neppure pensato a realizzare un videoclip. Se un ragazzo oggi va in giro a fare video aziendali per 100 euro, non sta distruggendo un mercato, semplicemente quel mercato non esiste più. L'avanzamento tecnologico, l'enorme diffusione dei mezzi e delle conoscenze, ha modificato in maniera radicale l'economia globale, ha fatto sì che nascessero queste nuove figure. Quindi è la realtà nel suo complesso che ha creato queste nuove figure. Non sono queste figure che hanno creato una nuova realtà. Un tempo uno pagava fior di quattrini e un tecnico informatico per farsi ripristinare il sistema operativo del computer. Oggi quasi tutti sanno farlo, hanno un amico, un cugino o un vicino di casa che può espletare lo stesso servizio gratis o per un caffè. Di conseguenza quel tipo di servizio non può più essere commercializzato come una volta. E tutto questo non è necessariamente un male. Se una telecamera professionale costasse ancora oggi quanto un anno di stipendio di un operario specializzato, tante persone che ora stanno lavorando non sarebbero neppure riuscite a avvicinarsi a questo settore. Quindi, se da un lato l'enorme diffusione dei mezzi ha reso un ampio ventaglio di prodotti video non più commerciabili a livello professionale, dall'altro ha fatto nascere una miriade di nuovi, piccoli clienti che danno modo di crescere a chi sta iniziando ora a fare questo lavoro e magari a talento. Chi vuole lavorare nel settore video sostanzialmente ha due possibilità. O buttarsi in una guerra tra poveracci giocando al ribasso, facendo mille lavoretti sottopagati per cercare di restare a galla. O alzare il livello del proprio lavoro per accedere a un tipo di clientela per la quale il video carino non basta più. Questo deve essere l'obiettivo. Non convincere il macellaio di cerbaglio di sotto a fare una pubblicità da 20.000 euro per metterla in un post su Facebook. Quello non ha senso. Se uno fa matrimoni e vuole venderli a 10.000 euro, deve necessariamente offrire qualcosa che la pletora di videografi che si vendono a 1.000 euro non riesce a offrire. E se a nessuno il video super figo interessa abbastanza da pagarlo 10.000 euro, il video non si vende. E ci sta. Il fatto che una persona voglia realizzare una cosa non implica necessariamente che debbano esistere altre persone che quella cosa la vogliono. o altrimenti è la prova che le persone sono stupide e non capiscono. Questo è un modo di vedere la realtà decisamente egocentrico e distorto ed è il motivo per il quale ho sempre trovato un po' assurde quelle campagne con motti tipo anche l'arte è un lavoro e il lavoro va pagato. Il lavoro va pagato quando è richiesto da un valore. Questo afferire sempre all'esterno i problemi può pure risultare consolatorio in un primo momento ma diventa rapidissimamente malsano perché pensare non dipende da me significa pensare non posso farci niente, condannarsi all'inerzia è tristissimo se invece uno parte dal presupposto che tutto è una propria responsabilità e allora lì il gioco si fa interessante e vale la gioia giocarlo. Grazie. Grazie.